Oggi parliamo di viaggiare. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Come va? Come stai? Spero tutto bene. Prima di iniziare ti ricordo, come sempre, che puoi supportare questo podcast offrendomi un cappuccino sul mio Patreon, dove puoi anche comprare le trascrizioni degli episodi. Aiutami a mantenere questo podcast gratuito e senza pubblicità. Se ti piace viaggiare, se hai viaggiato, sai bene che ogni paese ha le sue usanze, la sua cultura, i suoi costumi. Usanza è un sinonimo di costume, un modo di fare tipico di una certa cultura. Quando siamo in un altro paese, possiamo sorprenderci per alcune usanze locali. Siamo abituati ai nostri modi. Pensiamo che le nostre abitudini siano universali, che quello che facciamo sia giusto e naturale. Questo può essere un momento di crescita personale, un momento in cui capiamo che ci sono tante culture, tanti modi di vivere e che il nostro è solo uno dei tanti. L'espressione di oggi vuol dire proprio questa cosa. I propri modi di vivere non sono gli unici al mondo e occorre capire e rispettare quelli degli altri. Quindi se sei in un paese straniero e rimani sorpreso da un'usanza, da un modo di vivere locale, puoi dire paese che vai, usanza che trovi. Ok, anche oggi abbiamo finito. Se vuoi, puoi seguirmi su Facebook, Twitter e Instagram. Ci sentiamo domani. Ciao!